salute uova contaminate da salmonella ritirate da supermercati richiamo di uova contaminate rischi per la salute a causa della salmonella negli ultimi giorni ci sono stati rapporti allarmanti riguardo al richiamo di uova in diversi supermercati a causa di una possibile contaminazione da salmonella in particolare in varie regioni d'europa uova provenienti da determinati produttori sono state rimosse dagli scaffali le autorità sanitarie hanno avvertito i consumatori sui rischi legati al consumo di queste uova contaminate die fonte di contaminazione è stata identificata dopo approfonditi studi gli esperti hanno riferito che le uova provengono da un allevamento avicolo vicino a inserire città o regione un test di routine ha rivelato che alcuni campioni sono risultati positivi per salmonella ecco la traduzione in italiano questi batteri possono causare gravi intossicazioni alimentari che possono portare a sintomi come diarrea dolori addominali e febbre i gruppi più a rischio sono i bambini gli anziani e le persone con un sistema immunitario compromesso i supermercati coinvolti hanno collaborato immediatamente con le autorità sanitarie per organizzare il ritiro della merce contaminata i consumatori sono stati inventati a rendere immediatamente l'uova venuta entro una certa da die catene di supermercati hanno chiarito che si tratta di una misura preventiva per garantire che non ci siano rischi per la salute dei clienti inoltre le autorità hanno sottolineato che la tracciabilità delle uova nella catena di approvvigionamento alimentare è molto importante hanno ricordato che è fondamentale monitorare attentamente le fonti degli alimenti e identificare tempestivamente i potenziali pericoli i consumatori sono stati invitati a prestare attenzione alla provenienza e all'etichetta nella scelta delle uova per evitare prodotti potenzialmente contaminati un funzionario sanitario ha espresso preoccupazione per gli incidenti e ha sottolineato che la presenza di salmonelle negli alimenti rappresenta un problema serio che dovrà essere affrontato anche in futuro è necessario garantire che gli standard igienici siano rispettati in tutta la produzione alimentare oltre alle uova anche altri prodotti a base di pollame sono vulnerabili a tali contaminazioni negli ultimi anni ci sono stati ripetuti casi di richiamo di uova a causa della presenza di salmonella alcuni rapporti hanno indicato che tali richiami sono in parte attribuibili a forme di allevamento avicolo sempre più intensive e industriali le esigenze dei consumatori di alimenti freschi e salutari si scontrano occasionalmente con l'efficienza di tali aziende che in passato hanno trascurato i protocolli igienici ecco il testo tradotto in italiano i recenti incidenti evidenziano chiaramente l'importanza della protezione dei consumatori nell'industria alimentare le autorità continueranno a collaborare strettamente per garantire che tali incidenti possano essere minimizzati in futuro i consumatori dovrebbero essere consapevoli dei potenziali rischi e assumersi la responsabilità prestando attenzione all'origine degli alimenti e restituendo o smaltendo i prodotti in caso di dubbi il richiamo delle uova rappresenta quindi non solo un rischio per la salute ma solleva anche interrogativi sulla qualità e l'hygiene nella produzione alimentare. Die Verbraucher hoffen, dass durch striktere Kontrollen und transparente Informationspolitik solche Vorfälle in Zukunft seltener werden. Der Vorfall wird weiterhin genau beobachtet, um notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der Situation zu ergreifen. Juvedì 29 Agosto 24